box 116 con ottilia questo ragazzo 53 centimetri al carrese siamo un po' timidi un po' timidi stiamo levando la corda per mandarla vieni qua, basta, basta guardate, passa troppo male a guardarlo che è successo? che è successo? eh, lo so, lo so, non voglio essere toccata vabbè comunque c'era la zampa piegata vabbè lì lì è proprio Ciao